Cristina Aguilera Cristina Aguilera troppo rifatta, la cantante è diventata irriconoscibile Cristina Aguilera ha esagerato con i ritocchi al viso? Le critiche dei fan Sembra proprio che Cristina Aguilera abbia esagerato con il bisturi La cantante, solo poche ore fa, ha postato un selfie che ha prontamente rimosso dopo aver ricevuto non poche critiche sul social A detta dei fan, infatti, il viso di Cristina Aguilera è sembrato irriconoscibile Nonostante la cantante abbia rimosso la foto, sul web in molti avevano già salvato lo scatto e dopo poco è diventato virale Non solo le labbra della cantante appaiono esageratamente gonfie, ma anche gli zigomi sono stati ritoccati Per non parlare degli occhi dell'Aguilera, dalla foto emerge uno sguardo assai smarrito I fan non capiscono come mai la cantante americana abbia deciso di cambiare così tanto il suo aspetto In molti hanno affermato che fosse molto più bella prima di esagerare con la chirurgia L'attaccamento al bisturi di Cristina Aguilera Eppure non è la prima volta che la cantante americana si lascia ammagliare dalla chirurgia plastica Infatti, già in passato aveva aumentato visibilmente la taglia del suo décolleté Anche il naso di Cristina Aguilera ha subito dei cambiamenti, nonostante lei non lo abbia mai voluto confermato Per il momento l'artista non ha replicato alle critiche dei fan, si è forse pentita dei suoi ritocchini? Per il momento l'artista non lo abbia mai Per il momento l'artista non lo abbia mai